Il loro scatto sotto la neve ha commosso tutti, una corsa verso il verde e poi un balzo per riconquistare la libertà. Sono i caprioli del centro, fauna selvatica e il pettirosso di Modena, liberati nei giorni scorsi in località Frassinoro, sull'Appennino Emiliano. Erano stati soccorsi e curati dai volontari del centro, ora sono finalmente liberi di muoversi tra quei boschi e quelle vallate che li hanno visti nascere.